ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare in libertà oggi c'è con noi francesca spagnuolo a tutti e siamo nello spazio riservato a come imparare dei canzoni semplici da suonare al pianoforte oggi suoneremo una canzone dei cranberries che è zombie e lei ce l'iterà bene questa canzone prevede quattro accordi il primo è il mi minore quindi se questo è il do dove ci sono i due tasti neri sappiamo benissimo che questo è il do re mi il mi minore si compone di queste note mi sol e si primo accordo il secondo accordo è proprio il do maggiore che ormai conosciamo tutti dormi sol poi ci sarà il sol maggiore sol si re ed infine il re maggiore quindi re fa diesis la e la canzone fa così lunata un'altra E noi possiamo andare avanti sempre con questi accordi in tutte le parti di questo brano e vi volevo dire inoltre che possiamo suonare sia così con due battute lente per ogni accordo oppure raddoppiare il tempo, ad esempio vi faccio sentire come potrebbe essere nel ritornello, per esempio 1, 2, 3. Come abbiamo visto possiamo raddoppiare gli accordi e possiamo mischiare e farlo a nostro piacimento ma comunque questi quattro accordi vanno avanti dall'inizio alla fine. Bene, come avete visto era semplice questa canzone da suonare e io ringrazio Francesca per averci dato una mano. Io ringrazio a te. Grande. Vi lascio in descrizione come sempre un link dove trovate il testo con gli accordi e la diteggiatura per entrambe le mani e date un'occhiata nella descrizione e trovate tutto quello che serve per suonare al meglio questa canzone. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.